Le piogge incessanti hanno creato innumerevoli danni nell'intera regione. L'acqua ha praticamente immobilizzato un intero territorio. Strade, terreni e aziende allagate, alberi e fruttetti sono stati completamente sommersi dall'acqua. Diversi disagi che sono stati segnalati dai cittadini di Policoro, ma la situazione peggiore si è registrata a Scanzano, Ionico, Marconia e Stigliano. Qui, proprio al bivio che porta in paese sulla Saurina, è crollato un viadotto. Un perfetto tempismo ha evitato che un'enorme voragine ingoiasse le auto in transito. Purtroppo la maggior parte dei danni si sono registrati non solo per il maltempo, ma per l'incuria dell'uomo. Così come sottolineano gli agricoltori del metà pontino, adirati per la leggerezza e la superficialità, con cui gli enti preposti hanno affrontato questioni quali la pulizia dei canali di bonifica o la mancata manutenzione dei tombini stradali, che durante questi violenti nubi fragi provoca una fuoriuscita inarrestabile di acqua, causa di innumerevoli disagi per gli automobilisti. Quanto è successo allo svincolo di Scanzano Ionico Sud, dove due persone sono state soccorse perché rimaste impantanate con la macchina mentre attraversavano il sottopassaggio. Il tratto di strada sulla 598 Valdagri, così come tanti altri, sono stati chiusi al traffico. A causa del perdurare del maltempo, scuole chiuse a Policoro, Montalbano, Scanzano Ionico, Pisticci, Marconia, Bernalda, Nova Siri, Valsinia, Cettura e Stigliano. Anche nel senisese, in particolare sulla stata lesinica, gli automobilisti hanno registrato difficoltà a causa dell'allagamento dell'arteria e di diversi smottamenti del terreno che hanno interessato le strade secondarie dei comuni. Anche per la giornata di oggi l'allerta resta alta sull'intero territorio regionale.